Tiziano, ma cos'era quel filmato di striscia la notizia dove esultavi per un gol dell'Inter? Sei scivolato sulle banane? No, allora, i più informati, quelli che hanno letto il mio libro, sanno benissimo che i miei inizi furono a una radio mitica che si chiamava Radio Peter Flowers. Allora, Bruno Longhi faceva le radio cronache dell'Inter in transfert. C'era il grande Brandi, eh? Dopo, dopo è arrivato Brandi. Pelle Gatti faceva le partite del Milan in transferta. A un certo punto Pelle Gatti andò a 105 e io ho preso il suo posto. Patto d'onore, mi disse Pelle Gatti, se non dovesse andare bene a 105 mi devi ridare il posto. Dopo due radio cronache è tornato indietro. E allora, siccome avevo un contratto in essere, avevo un contratto in essere, abbiamo cominciato a fare le partite del Milan e dell'Inter in casa. Così io facevo, a seconda, quando c'era Longhi in transferta, facevo il Milan in casa. Cioè gli interventi sui gol. Quando Pelle Gatti ero in transferta io facevo l'Inter. E' capitato, è capitato anche di andare su mai dire gol per i gol dell'Inter, dell'Atalanta e della Juventus. Sempre di Tiziano Crudelli, perché il mio modo di fare era quello gol, eccetera. Tutti quelli che mi conoscono e che erano con me sanno benissimo la mia fede calcistica, al di là della mia professionalità. Che è notoriamente nera-azzurra. Eh? Sì, ed ero anche un po' così. Visto che mettiamocela tutta, insomma. Eh, non è vero, anche dopo qualcuno dice determinate cose. Eri, adesso, su. Eri, un po' così. No, 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 no. Voi mogli, figli, tre figli, qualcosa che l'ho scelto per strada. Cambiare idea, cambiare opinione non significa un'intelligenza. Sì, non cambiare intelligenza. Io non ho mai cambiato. Ti sei messo. Non ti nascondere, non ti corrucciare. Tiziano, 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 io ti consiglierei un minuto di silenzio, tiziano, perché ti sei infilato in un cul de sac. No, 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 niente cul de sac. Ti sei infilato in un cul de sac. No, ma per l'amor di Dio, non mi sono infilato da nessuna parte. Hai visto cosa ti ha preparato? Cosa sei? Eccolo lì. Foschini. Dov'è? Fammi vedere. Allora, siccome qualche rimbambito fa delle allusioni stupide dopo aver visto quella roba lì, Foschini, io ti querelo. Invece di portarti a cena in uno ristorante come si deve. Io porto a cena Foschini, porto a cena tutti i tecnici, tutti i tecnici. Tutti i tecnici? Sì, tutti i tecnici, tutti i tecnici. Mi fai schifo. Ma è una vergogna, si vergogni. E allora perché tu porti a cena una persona e pensi subito al sesso? Eh, vabbè. Vedi che sei malato, santo Dio. Ma sì, verricogna. Si può andare a cena, ridere e divertirsi. Oh, santa polenta. Si fa spogliatoio e si fa gruppo. Ho portato a cena anche la Rosangela. E poi? Eh, Rosi? E poi? Eh? Io mi scuso. Mi scuso. Marchini l'ha portato a cena. Marchini, tutti a cena. Anche tu insieme a Foschini. E anche tutti i parenti. E poi ci portiamo anche Negrini. Eh beh.